Un teatro vuoto, un palcoscenico vuoto. Da troppo tempo i teatri e i palcoscenici sono vuoti e ancora più vuote sono le sale, le sedie dove di solito si siede il pubblico. Anche questa sera la sala resterà vuota, le sedie resteranno vuote, però questo palcoscenico fra un po' si riempirà di artisti. Si riempirà di artisti è un termine improprio, perché le formazioni che saliranno sul palco sono assolutamente minimaliste. Due musicisti, al massimo tre, che proporranno la nostra musica, la musica di Velut Luna, artisti della grande famiglia Velut Luna, che questa sera hanno voluto celebrare la musica insieme a noi, con noi e per voi. Sarebbero tante le cose da dire, però non voglio assolutamente annoiarvi, anche perché questa sarà una serata di grande intensità emotiva. Ho sentito le prove, ho sentito i cani che verranno proposti e credo che sapranno accontentare assolutamente la maggior parte del nostro pubblico. Mi piacerebbe dire tutti, ma non si può mai accontentare tutti. La caratteristica della serata sarà comunque quella che è tipica di Velut Luna, cioè di proporre uno spettro, un panorama di musiche assolutamente variegato e magari anche agli antipodi una dall'altra, solo apparentemente però, perché la bella musica è bella musica a prescindere dai generi. Quindi non si può parlare di un brano di musica classica come è il secondo che sentiremo, il famosissimo Trio London di Haydn. Dicevo, non si può propriamente dire che sia agli antipodi del funky blues dell'apertura, ma sto spoilerando evidentemente. Non manca molto, 20 e 48. Una cosa che mi piace sottolineare è che inizieremo puntuali, incredibile a dirsi, ma alle nove esatte avremo l'inizio della musica. Vi anticipo fin d'ora che saleranno sul palco per primi Enrico Santa Caterina, chitarra e voce e Massimo Tuzza, però mi fermo qui. Saranno loro, sarà Enrico, ad introdurre le musiche che eseguirà. La giornata di oggi è stata una giornata decisamente impegnativa. Velut Luna non è una major company, è un'etichetta indipendente, è una piccola etichetta indipendente. Oggi stiamo realizzando in tre il lavoro che normalmente richiede almeno 15 persone, per cui speriamo che vada tutto bene, saremo in diretta pura, non stop e fra un set e l'altro, proprio perché siamo in tre e non in 15, vedrete me e Giovanni salire sul palco per cambiare i set, come si dice, sperando di non fare errori. E se faremo qualche errore, spero che saprete perdonarci. Excusatio non petita, dicevano i latini, però insomma metto le mani avanti. 20 e 49, fra un minuto smetto di parlare, lo prometto, e buona serata, speriamo appunto di incontrare il vostro gradimento e soprattutto speriamo di riuscire ad emozionarvi, che è da sempre il primo obiettivo mio di Velut Luna e dei miei artisti. Buona serata.